Vangelo del giorno 28 ottobre 2022 Il Vangelo di oggi ci presenta Gesù che chiede di essere seguito. Ma cosa succede? Che ad un amore decantato, detto a parole, non corrisponde un amore con i fatti. Io ti amo Signore, sei tutto per me. Poi il Signore ti chiede di seguirlo per la via che traccia Lui e Lui però comincia ad inventare scuse, a dire che hai un impegno, a dire che non puoi e addirittura a dire che non accetti quel disegno. Provo a pensare ad esempio la malattia. Nessuno vuole soffrire. Padre Pio, che abbiamo celebrato da pochi giorni, diceva, tutti vengono da me per chiedermi di levargli la croce. Nessuno viene da me per chiedermi di imparargli a come si porta la croce, a insegnargli a come si porta la croce. E allora ascoltiamolo questo Vangelo. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, mentre andavano per la strada, un tale disse a Gesù, ti seguirò ovunque tu vada. Gesù gli rispose, le volpe hanno le loro tane, gli uccelli del cielo e i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. A un altro disse, seguimi. E costui rispose, Signore, concedimi di andare prima a seppellire mio padre. Gesù replicò, lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio. Un altro disse, ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congegli da quelli di casa. Ma Gesù gli rispose, se nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Insomma, questo Vangelo ci dice che per seguire il Signore non ci sono condizioni. O meglio, non possiamo noi mettere delle condizioni alla sequela. Vengo con te, Signore, se, se, se. Questo con Gesù non esiste. Poi Lui, se ci vuole dare qualcosa, qualche consolazione, qualche grazia, Lui può perché Lui vede dove noi non vediamo. E allora, come diceva San Paolo, tutto considero una perdita e tutto lascio indietro per conquistare Cristo ed essere trovato in Lui. camminiamo con il Signore ma non diciamo al Signore le nostre condizioni. Piuttosto camminiamo con il Signore e fidiamoci di Lui. E allora, buon cammino a tutti.